buonasera buonasera chi abbiamo questo martedì presentati allora salve a tutti io sono i già vascego sono la scrittrice in questo momento sono anche visto che parleremo di roma sono romana sommala perché sono figlia di sommali venuti qui nel 70 ma sono anche romanista nel senso proprio della squadra di calcio ecco questa è un'informazione importantissima direi proprio sì e allora noi siamo qui per parlare con i giaba di questa storia di maschi bianchi morti e il maschio bianco morto che appare nella locandina di questo incontro e gli impare l'imperatore augusto e è un busto in bronzo dell'imperatore augusto e però in questa storia non la vorrei raccontare io perché la vorrei che la raccontasse i giaba perché lei sa raccontare molto bene le storie per cui proviamo a raccontarla è una storia che si lega molto anche al discorso attuale che si sta facendo sulle statue no dopo la morte di george floyd voi avete visto no che ci sono state proteste in tutto il mondo non solo negli stati uniti si è parlato molto di statue di cosa fare dove di ricollocarle o addirittura di rimuoverle no e questa statua ha avuto una storia abbastanza curiosa perché è databile intorno se non sbaglio al 30 al 25 avanti cristo è conservata al british museum di londra però è stata rivenuta nella nubbia nell'attuale diciamo sudana no che ci faceva gusto in sudana in realtà è molto interessante perché voi sapete che romantica aveva si dice sempre ixut leones no che i romani non sono andati in africa invece i romani sono andate come in africa a parte l'egitto ci sono state anche alcune poi il professore mi correggerà alcune penetrazioni alcune esplorazioni e diciamo che le truppe e le truppe romane che si trovavano in stanza in egitto spesso si veniva si confrontavano con i nubiani e in una di queste in uno di questi confronti e un gruppo appunto di romani è stato è stato in qualche modo attaccato da un contingente un esercito proveniente da mero e che era guidato dal re teritecas e dalla regina amani io non so mai pronunciarla però amani renas insomma doveva somigliare un po a me in questa signora e questa signora insomma però la cosa che a me ha colpito è che questo è stato da gusto ci sono di solito quando c'è una guerra ci sono anche i bottini di guerra questo era un bottino di guerra e in qualche modo per sfregio hanno seppellito il augusto sotto il palazzo no proprio perché si doveva essere calpestato era il potere straniero che doveva essere calpestato il paradosso è che questo che doveva essere lo sfregio è quello che però ha riportato questa statua fino a noi no di come le storie in qualche modo sono hanno degli esiti paradossali cioè loro avevano fatto comunque di capitare questa statua e l'avevo avevano seppellito la testa l'avevano ogni volta che passavano di lì ci sputavano calpestavano eccetera però grazie a questo sfregio oggi abbiamo una stato di augusto tra le più belle al mondo no cioè quegli occhi che sembrano guardare dall'antichità insomma è formidabile secondo me è una storia pazzesca e poi comunque ci fa capire una cosa che roma era curiosa sull'africa e questa è una cosa che è chiaro che non possiamo parlare di roma che ha esplorato di roma che ha conquistato di roma che ha fatto cose in africa per carità perché poi noi non ci pensiamo ma la storia è anche contemporanea c'era insieme a roma c'erano anche vari altri centri in africa c'è una c'è un bellissimo libro sull'africa antica di favela che vi consiglio di leggere e quindi veramente noi dobbiamo pensare la storia anche antica come una storia globale che in vari centri si svolgevano vari avvenimenti a volte questi avvenimenti si toccavano come nel caso dell'agusto di mero ecco questa insomma è in effetti una bella storia che meriterebbe di essere raccontata anche perché in fondo insomma lì la questione della tradazione resta sempre un po difficile però è anche vero che se si tratta di una statua di augusto eh quando non era insomma ancora diventato il divo augusto eh in effetti ha un significato se fosse invece un una statua successiva eh potrebbe essere anche uno di quelle immagini che si portavano dietro nella eh negli accampamenti allora in questo caso potrebbe anche non essere necessariamente una una però insomma una statua intera però la cosa interessante ci porta anche a eh mettere in eh in discussione quello che è è stato detto da molti classicisti anche che normalmente lucidi eh quando è venuta fuori la storia di George Floyd questo è successo l'anno scorso e eh a questo proposito sono venuti fuori eh tutti questi commenti su queste statue che venivano buttate giù o comunque venivano oltraggiate e è venuta fuori questa storia della cultura della cancellazione cioè della cancel culture e molti classicisti sono veramente spaventati perché hanno detto beh allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo buttare giù il stato di Augusto di Cesar si sono un po' spaventati e un po' era un po' come l'idea di quando dicevano ah guardate che se vengono i comunisti vi portano via tutte le loro proprietà no erano degli slogan elettorali e adesso direbbero la stessa cosa quindi vengono adesso vengono gli immigrati e gli amici degli immigrati a buttare giù la nostra civiltà che ovviamente è un'enorme sciocchezza e e anche perché naturalmente si dice sempre bisogna contestualizzare ma anche nel caso dell'Italia è necessario contestualizzare come fare allora no è molto interessante quello che mi chiedi perché noi partiamo dal presupposto di una classicità e appunto maschi bianchi morti quando noi sappiamo che Roma antica ma in generale l'antichità era era veramente un passaggio un attraversamento no Roma io la penso più come una società transculturale no effettivamente lo era perché quando si parla di impero l'impero romano aveva sì si parlava greco e latino ma appunto c'erano come non si parlava il greco e latino c'era l'accento no io ogni tanto penso a questo latino con gli accenti non so siriani quanto spagnoli no quindi dobbiamo partire da questo che la classicità non è quella non non è le statue di marmo bianco che vediamo oggi perché le statue di marmo bianco erano statue colorate e facevano vedere effettivamente questa nuanza dell'impero quindi già questo dovrebbe dare conforto ai classicisti la cosa che dovrebbe anche dare conforto ai classicisti secondo me è che non dobbiamo parlare di cancer culture cancer culture secondo me è una più una un frame mediatico in realtà quando si parla di statue e soprattutto di statue contestate che si portano addosso un passato scomodo è chiaro che dobbiamo vedere caso per caso dobbiamo vedere anche il contesto geografico dove questo succede per esempio quando gli afroamericani hanno chiesto la rimozione di alcune statue e vi faccio proprio un esempio quella una central park di un ginecologo del di marion sims che è stato sì il padre della ginecologia però non si parla delle madri della ginecologia che sono state le schiave che lui ha usato per gli esperimenti ecco le donne afroamericane hanno chiesto che quella stato fosse rimossa hanno fatto delle performance e la stato è stata rimossa in una in una in un ambito e in una cornice di confronto su cosa era quella stato poi era anche una stato moderna invece è chiaro che nel contesto italiano le cose sono diverse noi abbiamo le tracce del fascismo è chiaro che le tracce del fascismo non le vogliamo rimuovere sono sono pesanti portano dietro un portato pesante ma quello che possiamo fare è quello che diceva anche gianni rodari in un suo articolo proscritto per il foro che aveva scritto per un poco prima delle olimpiadi di roma che noi possiamo aggiungere secondo me cioè lui voleva la rimozione ma subito finita la guerra ha detto adesso ormai cosa ci possiamo fare non le volete rimuovere almeno aggiungiamo qualcosa che cosa sono queste statue contestualizziamo ecco io siccome sono un po' ossessionata dalle tracce del fascismo del colonialismo nella città di roma anche perché si portano dietro una visione tossica del mito di roma no soprattutto mussolini aveva questa visione molto tossica lui non amava roma però volevo usare il mito dell'impero no non a caso voleva farsi seppellire vicino ad augusto cioè il suo più grande sogno era farsi seppellire vicino proprio al museo leo di augusto e aveva tutta la zona di santo augusto imperatore è in qualche modo anche fascistizzata per questo motivo non c'è riuscito però è era il suo disegno come suo disegno era imitare augusto in tutto c'è la zona di piazza venezia oggi no che era già stata deturpata in età liberale col vettoriano mezza roma medievale era andata via per questo l'altra mezza roma medievale è anche un pezzo di roma antica se n'è andata via per via dei fori imperiali perché l'idea di mussolini era legare la roma antica e isolare i monumenti della roma antica legarli alla sua roma che era l'euro quella dell'esposizione però cosa attraverso piazza di porta capena che oggi è vuota o mezza vuota poi vi dirò perché mezza vuota prima c'era la stelle di axum che era il bottino coloniale di mussolini la stelle non l'ha portata per a caso non ha scelto monumento verticale a caso perché gli antichi romani portavano gli obelischi no come bottini di guerra no dall'egitto si sono portati tanti obelischi roma è piena di obelischi per questo motivo quindi voleva il suo obelisco augusteo quindi il suo obelisco augusto effettivamente era la stelle di axum che l'italia ci rimetterà quella repubblicana ci metterà tantissimi anni restituire in modo assolutamente rocambolesco in quella sta in quella piazza oggi troverete due colonnine disperse nel traffico in secondo me i romani non sanno cosa cosa sono quelle due colonnine sono in realtà un monumento all 11 settembre che nemmeno c'è un brutto monumento all 11 settembre perché secondo me dovevamo fare un bel monumento all 11 settembre alle vittime di quello quell'atroce attentato ma in quella piazza forse avremmo dovuto fare un monumento alle vittime del colonialismo italiano che sono state brutalizzate dai gas questo sì i romani hanno questo problema della diciamo della dell'obelisco di axum che era considerato come un punto di ritrovo per loro era più o meno come la famosa lampada ostram che c'era la stazione termini quindi sono completamente io io dubito che un diciamo un romano che non abbia fatto degli studi specifici sappia veramente dove si trovasse axum e questo è un aspetto interessante però io ti volevo chiedere un'altra cosa tu ovviamente ti sei occupata tu oltretutto vieni da molto più a sud la tue le tue le origini della tua famiglia sono molto più a sud sia di meiro e che di axum andiamo proprio nella zona insomma alla fine del 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 mar rosso insomma un posto dove di fatto i romani se ci andavano ci andavano come mercanti insomma come o più tardi anche come missionari cristiani e invece eh però eh tu ti sei occupata hai fatto un libro sulla eh eh sulla romanità eh proprio di eh su quello che si trovava eh che il fascismo aveva lasciato a Roma e il rapporto con la Roma e la romanità paradossalmente questo libro è rimasto meno ha interessato di meno eh quelli che normalmente vengono a fare i leoni di tastiera i eh dei trattori e lì vorrei aprire una piccola parentesi perché il il web soprattutto i social sono pieni di grandi amanti di Roma e della romanità però eh spesso sono persone che non leggono libri su Roma Antica oppure magari così guardano le la divulgazione eh sui media hanno magari letto anche qualcosa hanno rimaniscenze scolastiche però in realtà non vogliono leggere molto perché secondo me avrebbero paura eh eh che del che certi miti finissero un po' per andare via e questo mi ricordo un po' come quando c'è stata la storia di Charlie Hebdo e c'era questa vignetta dove si si vedeva il profeta Mohammed che diceva è difficile essere amati dalle deficienti e tutto sommato come storico di Roma io mi immagino molto bene un Augusto o un Cesare o un Costantino dire esattamente la stessa cosa a proposito di queste persone che tirano fuori sempre queste cose sulla grandezza di Roma i legionari e tutto e tutto il resto però in realtà si sono sono presa con te soprattutto a proposito dell'eroe fondatore di Roma di Enea raccontaci questa storia perché questa è un'altra storia interessante no no questa è interessante faccio piccolo inciso da insomma in Somalia ci sono venuti gli antichi egiziani le Hatshepsut la faraonessa per l'incenso in Somalia sono venuti loro però ecco questa storia è molto interessante mi ha fatto capire molte cose perché io comunque penso sempre che per esempio i monumenti la storia deve essere contestualizzata io non sono per la distruzione ma sono per la giunta no come dicevo prima e sono sempre lì a tessere no la mia tele di Penelope senza sfilarla nel giorno dopo però ecco la cosa che è successa è che ho curato un libro anche Superman era rifugiato un libro per ragazzi scuola e media diciamo il nostro target coinvolgendo gratuitamente illustratori e scrittori perché andava tutto in beneficenza era un libro anche legato all'UNHCR quindi univamo vari rifugiati quelli di oggi quelli di ieri c'era Poirot alcuni anche di fantasia c'era Poirot c'era appunto Nadia Comaneci Freddi Mercuri Dante in qualche modo no e chi aveva avuto un'esperienza di esilio con i con i rifugiati di oggi chiaramente c'era Enea no Enea con suo padre sulle spalle figlioletto c'è quelle immagini lì e la cosa che mi ha meravigliato che veramente io mi occupo da tanto tempo di fascismo e il libro Roma negata abbiamo fatto di tutti i monumenti eccetera eccetera tranquille su internet non mi è mai successo niente invece su questo libro per ragazzi ci hanno dedicato degli striscioni a parte che la prima recensione è stata una recensione da un noto organo di estrema destra anche la seconda e anche la terza quindi non era Repubblica non era il manifesto ma tre organi di estrema destra che mi è preso un colpo devo dire e la quarta cosa sono state delle striscioni in tre città italiane dicendo Enea non è un rifugiato voi manipolate la storia e lì ho capito quanto si deve molto lavorare nelle scuole su Roma antica perché è un mito che non deve essere lasciato a chi non la sa interpretare o chi la interpreta male perché Roma ha fatto tante guerre ha fatto anche tante opere diciamo architettoniche cioè Roma è veramente complessa cioè noi parliamo di storia romana tu sei professore quindi lo sai meglio di me è veramente Roma Repubblicana Roma Imperiale Roma Tardo Imperiale sono veramente cose diversissime persone costumi quindi è qualcosa che mi ha molto colpito e penso che spero che qualcuno molto competente possa fare un giorno dei romanzi su Roma Antica no? perché a noi ci ha rovinato il peplum un pochettino e poi alla fine ci sono anche le esigenze del cinema americano per cui vogliono Cleopatra deve essere per forza scura era Macedon insomma era un film difficile su Annibale non si sono messi d'accordo su Annibale non riescono a fare un film è una cosa che mi sono chiesto il motivo e non lo so io sono rimasta però ai film proprio quelli lì degli anni 50 che loro si salutavano tutti romanamente secondo me questa cosa ha rovinato un po' l'immaginario perché i romani non è che si salutavano Ave Cesare ogni due secondi quindi in realtà la cinematografia ha fatto parecchi danni magari potremmo fare altri film un po' migliori però ecco a me è colpito questa storia perché secondo me la storia romana va studiata meglio va studiata anche nel suo essere così globale perché è interessante io non posso che essere d'accordo però certo il problema è che la storia romana e anche ad esempio il diritto romano da cui poi discende il diritto italiano e non solo e ci sono tanti aspetti che in effetti hanno fatto sì che per tanto tempo la storia romana fosse uno dei capisaldi dell'insegnamento umanistico e non solo umanistico ora sembra diventata un po' una cosa di nicchia e forse diciamo questo è ovviamente un male però in qualche modo permette anche di rivedere le cose in maniera diversa proprio perché in fondo la storia antica è diventata una terra straniera anch'essa è forse il momento di poter rivedere le cose in maniera più globale certo se poi ti metto con lo striscione a Orvieto in cui insomma poi a Orvieto non capisco perché proprio a Orvieto hanno deciso che tu avevi infangato il buon nome di Enea e certo non andiamo, non si fa molta strada io e gli altri scrittori a questo proposito appunto insomma il tempo ovviamente è volato ci sarebbero state tantissime altre storie da raccontare ma quello che vi volevo chiedere in genere chiedo sempre agli ospiti che cos'è un antichista ma lì forse sarebbe bene correggere il tiro e dire che cosa dovrebbe essere un antichista come potrebbe rendersi più utile di quanto non lo sia già adesso allora prima di tutto grazie che ci ha detto che c'erano dei peplum su Annibale io parlavo di film recenti e qualcuno ha detto che uno dei problemi è stato il gladiatore di Ridley Scott sì infatti c'è un commento qualcuno se lo prende col gladiatore ma mamma non lo so, a me non era piaciuto tanto quindi non so se ha creato danni o no questo non lo so però per rispondere alla domanda molto importante secondo me un antichista dovrebbe essere un ponte quasi un mediatore culturale perché Roma Antica non si sente Roma Antica è la mia quotidianità per me che sono romana io abito in un quartiere dove abbiamo i palazzi e l'acquedotto abbiamo Porta Maggiore qui vicino per me è la mia quotidianità quindi in un certo senso Roma per un romano è la sua vita per gli altri è qualcosa che però è entrato nella cultura quindi noi siamo un po' in qualche modo infarciti di quella romanità antica e conoscerla sarebbe bello e quindi chi la conosce, chi l'ha studiata potrebbe veramente fare una mediazione culturale fare un ponte tra il passato e il presente ma secondo me Francesco Totti potrebbe aiutare la causa non lo so, Francesco Totti fa tutto io sono romanista quindi Francesco Totti fa tutto però ecco io posso credo che la causa la possano aiutare voi che l'avete studiata la storia antica e soprattutto sarebbe bello vedere anche dei prodotti pop popolari però fatti bene che ci possano veramente instradare dentro una materia che secondo me conosciamo un po' tutti però superficialmente e quindi sarebbe bello introdurre introdurre a questa anche a me colpisce sempre questa transculturalità che va dalla Spagna all'Illiria come si diceva all'Eptismania penso sempre quando penso vicino alle termine di Caracalla questo Caracalla che ha avuto una storiografia pessima insomma alcuni lo hanno molto molto odiato però ecco era figlio di uno di L'Eptismania di una che veniva dalla zona della Totti Siria e se non lo sapessi L'Eptismania era in Libia L'Eptismania è in Libia, sì Libia, Siria quindi diciamo e aveva il nome, diciamo il soprannome di un mantello gallico quindi insomma è interessante già quello, già Caracalla ti dice quanto no effettivamente questa Roma di pastori si è trasformata nel tempo e quanto noi siamo parte di questa trasformazione Caracalla è quello che è emanato un'elitto nel 212 che è stato, certamente è stato lungimirante poi sono presa con lui per tutta una serie di altre posso dire una cosa? l'Italia dovrebbe un pochettino imitare il Caracalla della Costituzione cioè a noi serve non lo Iussoli non lo chiamate Iussoli ma chiamate la riforma della cittadinanza per snellire le pratiche burocratiche che stanno asfissiando i figli di migranti che vivono in questo paese un giorno parleremo di questa cosa Iussoli non sta chiedendo nessuno il diritto di suolo ma stiamo chiedendo appunto la riforma sulla cittadinanza e in un certo senso Roma Antica è riuscita a fare una fotografia del reale era talmente cambiata che secondo me era quasi naturale fare quella Costituzione lì quindi anche noi dovremmo fare la fotografia di quello che siamo diventati oggi io ormai ho 47 anni ma ci sono ragazzi giovani ci sono bambini veramente una società transculturale l'Italia ecco potrebbe un po' imitare il passato non sarebbe male e certo oltretutto poi Roma Antica Iussoli non ce l'aveva perché insomma in compenso la civitas che era tutta un'altra cosa e su questa nota molto dotta ringraziamo Ijaba Shago per le sue storie e consiglio a tutti di leggere poi le storie che ha scritto ve le andate a cercare perché è un punto di vista molto interessante che serve certamente agli antichisti e anche a voi altri che non avete la fortuna di essere antichisti grazie a tutti e buonasera grazie